Per me è un'indagine importante perché è un ulteriore passo avanti nella dimostrazione di quella che oggi è l'andrangheta, e cioè siamo nel mondo delle imprese, quindi non le solite famiglie DOC, ad esempio come l'indagine che abbiamo presentato ieri a Cosenza dai Carabinieri, questa ridaggine di questa mattina invece è un passo ulteriore, un passo avanti al mondo delle imprese, cioè le imprese che si relazionano in modo diretto con famiglie d'indrangheta come Mazzagatti e come gli arena di Isola Capo di Suta, decine di imprese che noi inseguiamo e loro cercano di mutare pelle nel corso degli anni, proprio per non farsi acchiappare sul piano delle misure di prevenzione, sul piano dell'intervento dell'antimafia e poi sul piano penale, ma questa volta la Guardia di Finanza è stata più brava di loro, è stata più veloce di loro ed è riuscita attraverso questa indagine di dimostrare come queste imprese, muovendosi con il pallavuto, con la complicità, con l'abbraccio delle famiglie d'indrangheta, possono essere dominanti rispetto ad altre imprese di persone per bene, di persone che rispettano le regole dello Stato, pensando quindi di riuscire a saturare il mercato nel mondo degli appalti, sia pubblici che privati. Quindi io sono molto soddisfatto della qualità e del lavoro fatto dal mio ufficio e dalla Guardia di Finanza. Si è potuto registrare questo contatto strettissimo tra questa impresa, l'embitore stesso e gli esponenti di vertice dei gruppi criminali in un rapporto di reciproco sostegno, un rapporto di reciproco sostegno che si realizzava per quanto riguarda l'imprenditore, nell'ottenimento ovviamente di una serie di attività, imprese, iniziative economiche, sia pubbliche che private e ovviamente nella protezione che le coste di indrangheta assicuravano allo stesso imprenditore nei luoghi in cui questo svolgeva la sua attività economica. Come si diceva prima, l'impresa peraltro ha ottenuto una serie di appalti attraverso delle società che di fatto erano intestate, che erano formalmente intestate ad altri soggetti, ma di fatto erano riconducibili alla gestione diretta dell'imprenditore stesso. Per cui realizzando una serie di reati di intestazione fittizia di beni, aziende e imprese, in questo modo ottenendo anche l'acquisizione di appalti pubblici e poi attraverso un vorticoso giro di trasferimenti finanziari le somme di denaro andavano a confluire ovviamente nel patrimonio dell'imprenditore stesso. Un'indagine molto complessa sul piano patrimoniale che il Regno di Finanza ha svolto con ovviamente la solita professionalità che gli è propria, ma impegnativo anche nella ricostruzione dei rapporti che il gruppo imprenditoriale ha avuto con la criminalità organizzata in tutti questi anni e che si sono registrati, come dicevo prima, tanto con esponenti della criminalità organizzata nella provincia di Reggio Calabria quanto con le criminalità organizzate in un clan criminale che operano nella provincia di Catanzaro appena nella provincia di Corriere. Le attività investigative svolte sull'impulso e il coordinamento della direzione istituale antimafia di Catanzaro che evidenziano proprio come sia l'abile confine in alcune circostanze, in alcune realtà tra l'imprenditoria sana e alcune determinate dinamiche delinquenziali. In questo caso è evidente che proprio l'aver dei rapporti privilegiati con organizzazioni delinquenziali del territorio ha fatto sì che un gruppo imprenditoriale potesse ritavarsi una quota di mercato importante e soprattutto come accertato dalle nostre attività di ricostruzione investigativa e patrimoniale sia stato abile nell'eludere tutto quel sistema di contrasto interdittivo che viene posto in essere nel nostro ordinamento proprio per evitare le collusioni nell'imprenditoria sana della criminalità organizzata. Infatti il principale capo di imputazione è proprio l'aver svolto una serie di attività per sottrarre l'intestazione delle società ai reali proprietari così che da eludere proprio al sistema di sorveglianza antimatico.